Musica Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News che apriamo con la giudiziaria. Due degli indagati nell'inchiesta Catene Spezzate sarebbero pronti a collaborare con la giustizia. Attesa a breve l'udienza del riesame per Caterina Federico. Vediamo. Nuovi risvolti nell'itere giudiziario scaturito dall'inchiesta Catene Spezzate con la quale i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Licata con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento hanno portato alla luce casi di presunte violenze sugli ospiti della casa di accoglienza Suami Onlus di Via Gela, indagando otto persone. Almeno un paio degli indagati avrebbero dato la propria disponibilità a collaborare con la giustizia e a patteggiare la pena. L'unica persona finita agli arresti domiciliari, la licatese Caterina Federico difesa dall'avvocato di Cara, ha presentato richiesta di scarcerazione al Tribunale del riesame di Palermo. I giudici del capoluogo dovrebbero depositare nelle prossime ore la loro decisione. L'udienza nei confronti di Salvatore Lupo è invece in programma il prossimo 10 febbraio. In questo caso non si tratta però di una richiesta di scarcerazione, in quanto Lupo non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare se non quella relativa alla misura interdittiva del divieto di esercitare l'ufficio direttivo di amministratore della Suami, società cooperativa sociale Onlus, la cui struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo. A Giovanni Camilleri è stato intanto revocata la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento. Due giovani licatesi di 22 e 32 anni sono stati assolti dal giudice monocratico Tedde dall'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio perché il fatto non sussiste. I due erano stati fermati dalla Guardia di Finanza nel 2013 mentre erano a bordo di una vettura di proprietà di un altro licatese che è stato processato col rito abbreviato. Nel cruscotto fu rinvenuto mezzo gramma di marijuana e i due licatesi assolti si sono sempre professati innocenti dichiarando di non sapere nulla della presenza della droga in auto. E i carabinieri di Canicattì hanno arrestato stanotte due uomini in flagranza di reato mentre tentavano il furto in un esercizio pubblico. Alessandro Milazzo e Gioacchino Amato entrambi di 37 anni di Canicattì sono stati sorpresi dai militari dell'arma mentre praticavano dall'interno di un'abitazione disabitata un buco nel muro per accedere al magazzino di un pub. I carabinieri passando lungo le vie Salvemini e Del Buon Servizio, adiacenti al viale della Vittoria, hanno sentito dei colpi provenire dall'interno di una casa e hanno trovato i due che con un piccone e con un piede di porco stavano facendo un buco che era già arrivato alla grandezza di 60 per 40 centimetri. Torniamo a Licata. Il presidente della commissione sport, spettacolo e turismo Angelo Vincenti ha chiesto spiegazioni sulle luminarie di Villa Elena, replica del sindaco Angelo Cambiano, i particolari in questo servizio. Potrebbe esserci stato un difetto di comunicazione alla base del disguido legato all'illuminazione montata all'esterno di una delle entrate della villa comunale Regina Elena, epicentro degli ormai imminenti festeggiamenti di carnevale. Questi i fatti. Da alcuni giorni l'ingresso della villa che si affaccia su Piazza della Vittoria è stato abbellito con un'insegna luminosa che dà il benvenuto all'interno del parco. Il montaggio delle luminarie è stato effettuato da una ditta non licatese. Nei giorni scorsi però le ditte licatese operanti nel campo dell'illuminazione hanno ricevuto un invito da parte dell'ente a partecipare ad una gara relativa proprio all'illuminazione esterna della villa. A prendere posizione è stato il presidente della commissione consigliare sport, turismo e spettacolo Angelo Vincenti. Pare che alcuni giorni fa le ditte locali siano state contattate dagli uffici e invitati a partecipare ad una gara per la fornitura delle luminarie e che nel giro di qualche giorno avrebbero ricevuto l'invito, scrive Vincenti in un documento. Come tutti abbiamo avuto modo di osservare, le luminarie però sono già installate da un paio di giorni e quindi non si riesce a capire quali fossero le reali intenzioni dell'amministrazione. Gli uffici, a dire il vero, avevano iniziato una procedura legittima per l'affidamento, ma a quanto pare l'amministrazione si era già mossa autonomamente senza averne dato comunicazione. Mi auguro inoltre, conclude Vincenti, che per l'installazione delle luci all'interno della villa siano state acquisite le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti al fine di garantire la sicurezza di quanti durante queste festività frequenteranno la villa. Gli uffici comunali hanno provveduto a ritirare gli inviti verbali inviati alle ditte. Sulla questione abbiamo sentito il sindaco Angelo Cambiano. L'illuminazione alla villa è stata montata da una ditta esterna in forma del tutto gratuita per lente e pertanto non credo che questo possa dare spunto per alcuna polemica. Non c'è assolutamente nulla di cui giustificarsi. Come detto in apertura di servizio, la villa comunale Regina Elena sarà la sede principale dove si svolgeranno gli eventi inseriti nel programma del Carnevale Licatese 2016. I carabinieri hanno sequestrato a Palermo il ristorante Il Baglio degli Antichi Papiri del valore di un milione di euro di proprietà di Pietro Francesco Guggino nato a Valledolmo, 63 anni, arrestato per associazione mafiosa nell'operazione EOS. Il provvedimento è della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Il sequestro è scattato al ristorante. Secondo le indagini dei carabinieri, Guggino insieme a Salvatore Genova, Gaetano Fidanzati, Salvatore Locicero, Vincenzo Troia, fa parte della famiglia mafiosa del quartiere Resuttana. Secondo le indagini nel ristorante, si svolgevano riunioni riservate. Diamo adesso lettura di un comunicato stampa del Comitato Notriv. È indetta per domani, alle ore 18.45, presso l'oratorio della parrocchia di Sette Spade, in corso Filippo Re Capriata 66, un'assemblea urgente del Comitato Popolare contro le trivelle per discutere della posizione delle iniziative da assumere alla luce di nuovi e gravi fatti che saranno comunicati nel corso dell'incontro. Si invitano tutti i cittadini a partecipare e a dare la massima diffusione dell'evento. Il sì alla costruzione di due inceneritori ha scatenato la presa di posizione di Lega Ambiente Sicilia e del Lanci, i particolari in questo servizio. Via Libera nella conferenza Stato-Regioni alle norme contenute nell'articolo 35 del Decreto Sblocca Italia che prevede la realizzazione di una rete nazionale di termovalorizzatori con la costruzione di otto nuovi impianti, due dei quali in Sicilia. Le uniche regioni a votare contro sono state Lombardia e Campania. L'esecutivo di Crocetta ha dato il proprio parere favorevole. Una decisione a sorpresa perché negli scorsi mesi aveva proposto la strada alternativa di sei piccoli termovalorizzatori. Il governo Renzi, non in ponca maxi termovalorizzatori, aveva dichiarato il presidente della regione, ci lasci stabilire in accordo con i comuni le dimensioni delle strutture. E Mariella Lobello aveva ribadito la scelta, siamo sempre della stessa idea, quella dei sei mini impianti, anche se naturalmente bisogna accelerare sulla raccolta differenziata. Fu ribonda la reazione di Legambiente Sicilia. È una scelta scellerata, obsoleta e vecchia che non risolve nella maniera più assoluta il problema dei rifiuti. Quello accaduto oggi, dice Gianfranco Zanna, presidente regionale, ci riporta indietro nel tempo. Le uniche regioni ad aver capito che gli ingeneritori non servono sono la Lombardia e la Campania, dove hanno scommesso e vinto sulla differenziata. Adesso i governi nazionale e regionale ci spiegheranno come risolvere il problema nei 5-6 anni che occorrono a realizzare gli ingeneritori. Tra l'altro i cittadini sul territorio hanno già iniziato a pronunciarsi, come a pace del mela, dove in un referendum dal valore solamente simbolico hanno detto di no all'ingeneritore. Ancora una volta, conclude Zanna, ribadiamo che il futuro nella gestione del ciclo dei rifiuti sono la prevenzione, il riuso e il recupero, così come ci impongono le norme europee e nazionali, basta solo applicarle. La Sicilia in realtà non era né tra i favorevoli a condizione né tra i contrari. Semplicemente non c'era, nonostante il parere contrario espresso in Sicilia dal presidente e dalla vicepresidente della regione. Il sindaco di Palermo Orlando, presidente del Lanci, in aperta polemica è sempre stato contrario sia al piano del governo nazionale quanto alla regione, che non avrebbe scelto di tutelare gli interessi dei cittadini. Sul piano dei due mega ingeneritori, era stato il parere di Orlando, non è pensabile che il governo nazionale agisca senza consultare la regione e gli enti locali. Come dimostra il recente provvedimento della Corte Costituzionale sullo sblocca Italia, non è legittimo che su temi di questa rilevanza si scavalchino le competenze della regione. Diamo adesso lettura di una parte della lettera inviata dal presidente della Camera di Commercio di Agrigento Vittorio Messina al ministro dello sviluppo economico sulla revoca delle frequenze ad alcune emittenti televisive agrigentine. Il provvedimento a carico di Agrigento TV, TV Europa, Studio 98 e Radio Monte Cronio TV, con il quale si procede alla revoca delle frequenze assegnate, scrive Messina, necessita di approfondimenti che non possano non tenere conto delle gravi conseguenze che producono sui livelli occupazionali delle emittenti e sugli equilibri dell'informazione locale. Risulta peraltro paradossale che poco tempo dopo l'assegnazione delle frequenze si procede alla revoca delle stesse perché si scopre che interferirebbero con altri canali. La provincia di Agrigento non può permettersi il lusso di pagare questo prezzo che graverebbe sulle spalle dei lavoratori che rimarrebbero disoccupati e sulle spalle di editori coraggiosi che hanno condotto il loro impegno tra non pochi sacrifici, in un contesto nel quale non è certo facile trovare le risorse per mantenere un'attività imprenditoriale al servizio della pubblicità informazione. E su questa notizia interviene anche la CGL di Agrigento. Alla crisi che investe in generale le TV locali si legge una nota di Massimo Raso, specie di una provincia povera come la nostra e di cui abbiamo i segnali più evidenti nei recenti licenziamenti a TVA ma anche nel ricorso agli ammortizzatori sociali di altri emittenti. Adesso dobbiamo sommare la notizia davvero sconvolgente che investe Agrigento TV, TV Europa, Radio Montecrono TV e Studio 98, riteniamo davvero assurdo e grave, scrive Raso, che il governo possa tranquillamente, appena poco dopo l'assegnazione delle frequenze pagate a peso d'oro, accorgersi che alcune di queste interferiscono con altri canali e procedere alla reavoca dell'assegnazione, il tutto senza preoccuparsi delle conseguenze e non trovando soluzioni alternative. Cambiamo argomento. Cittadinanza attiva traccia il bilancio dell'anno 2015, un anno importante e ricco di attività come ad esempio la battaglia a difesa del punto nascita dell'ospedale ma anche in ambito di tutela ambientale che riguardano il depuratore di Gagibesi e parco eolico offshore. Il servizio è di Ilania Bona. Per cittadinanza attiva di Licata è tempo di bilanci. A poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno si tirano le somme del 2015, un anno importante e ricco di attività che ha visto il movimento impegnato in prima linea su più fronti dalla battaglia a difesa del punto nascita dell'ospedale di Licata, le campagne svolte nelle scuole ma anche l'impegno messo in campo a difesa della tutela ambientale che si è focalizzato sul depuratore dei reflui, la diga del Gagibesi e il parco eolico offshore. Le attività svolte dal movimento sono state illustrate dalla dottoressa Maria Grazia Cimino che ha tenuto a sottolineare l'impegno messo in campo a difesa del punto nascita dell'ospedale di Licata con la concessione della deroga con sospensione in vista della realizzazione di interventi per la sicurezza. Ed ancora l'audit civico eseguito sui servizi di salute mentale sulla rete di emergenza e urgenza delle ASP, la campagna sull'epatite C, l'impegno in ambito di malattie rare senza tralasciare le iniziative Un Amico in Corsia e lo spazio per i bambini in pediatria. Un'attività che si è contraddistinta anche per gli interventi a difesa dei reparti e dei servizi con particolare riferimento alle unità operative di chirurgia, medicina e ortopedia. Si è passati successivamente a riferire sulle attività svolte in ambito scolastico con l'annuale campagna Imparare Sicure e con l'indagine Scuole Belle e la raccolta di firme per l'anagrafe edilizia scolastica. Focus su quanto effettuato in ambito di tutela ambientale che ha riguardato prevalentemente il depuratore dei reflui, la diga del Gibesi, il parco eolico offshore e l'adesione al comitato promotore per la conversione ecologica dell'isola promosso dall'Anci Sicilia. Considerata l'impossibilità di trovare la soluzione ai molteplici problemi che il depuratore presenta, tramite un dialogo costruttivo con lato idrico e gestore unico incontrati in più occasioni, abbiamo intrapreso la strada istituzionale, ha dichiarato la dottoressa Cimino, chiedendo ad ato idrico o in alternativa all'assessorato regionale all'energia o al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare. Tramite delle lettere fatte partire dal comune dedicata il 31 marzo, l'integrale applicazione delle norme che regolano l'intervento sostitutivo nei confronti del gestore e la sospensione e il rimborso del canone di depurazione. Le attività di cittadinanza attiva si sono espletate anche all'interno del comitato Difendili Catano Peos, che si sta battendo da anni per opporsi alla realizzazione del parco eolico offshore, proposto dalla Mediterranean Wind Offshore. Ci fermiamo per il break pubblicitario tra poco. Dal 2 gennaio al 15 marzo al centro commerciale Il Porto arriva una pioggia di saldi. Centro commerciale Il Porto, lo shopping che conviene. Questo programma è offerto da Ceramiche Ligata, lo stile italiano che ha il re. Domani Alicata, cieli in prevalenza sereni per l'intera giornata, costratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 8 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nord-est, al pomeriggio deboli e proverranno da sud. Mare poco mosso. Umidità oscillante tra il 46 e il 71%. Questo programma vi è stato presentato da... Dai fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta di piccolo, c'è soltanto il prezzo. Scusate se poco. In apertura di seconda parte ci occupiamo di politica regionale. La regione sblocca i soldi ma la situazione degli enti locali rimane complicata, con difficoltà anche nel pagamento degli stipendi ai dipendenti. Il servizio è della redazione di TV Agrigento. L'esercizio finanziario provvisorio sblocca i soldi regionali ma la situazione per i comuni siciliani resta comunque critica. Arriveranno ai comuni i soldi del 2015, somme insufficienti a colmare la profonda sofferenza finanziaria degli enti locali siciliani. Spesso, come denunciato più volte dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, presieduta da Leoluco Orlando, non in grado di pagare più neanche gli stipendi ai dipendenti. Dal canto suo l'assessore regionale all'economia Baccei punta l'indice sulla scarsa capacità dei comuni di incassare i tributi di loro competenza, perché spiega c'è un'evasione che sfiora il 50%. Ed ancora ribatte il vicepresidente dell'Anci Paola Menta. Se si vuol far passare il messaggio che è un'incapacità dei comuni quella di non far pagare i tributi, credo che qualcuno dovrebbe interrogarsi su ciò che accade in Sicilia, dove le aziende chiudono la disoccupazione e ai massimi livelli. E tra i comuni siciliani, con serie difficoltà finanziarie, troviamo in provincia di Agrigento Porto Empedocle d'Aragona, che non hanno pagato lo stipendio di gennaio i dipendenti. In entrambi i centri è stato dichiarato lo stato di agitazione, una situazione incandescente quindi che rischia di aggravarsi. Aragona e Porto Empedocle sono i primi comuni della provincia di Agrigento a risentire di questi fatti. Per Porto Empedocle questo non è il primo episodio in cui i dipendenti non vedono accreditato lo stipendio. Sono iniziati i lavori di scarificatura di alcuni tratti del mantro stradale sulla strada provinciale numero 4 panoramica dei Templi. Si tratta di lavori programmati per migliorare l'aderenza in alcuni punti critici, per la cui effettuazione però si è dovuto attendere la fine delle operazioni di messa in sicurezza di alcune porzioni di costone roccioso da parte dell'ente parco archeologico, dopo il distacco di un masso che lo scorso 19 dicembre aveva portato alla chiusura della strada con ordinanza del settore infrastrutture stradali. E la strada statale 640 di Porto Empedocle cambierà nome e sarà denominata ufficialmente la strada degli scrittori in onore a quell'itinerario che ripercorre i luoghi vissuti e amati dagli scrittori siciliani e quelli descritti nei loro romanzi. Ad annunciarlo il vicepresidente ed amministratore delegato di ANAS Gianni Vittorio Armani questa mattina in Campidoglio nel corso della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria della città di Agrigento allo scrittore Andrea Camilleri. E sono state rese note le materie scelte per la seconda prova scritta della maturità 2016. Gli esami avranno inizio il 22 giugno prossimo. Il servizio è di Ilania Bona. Sono state ufficializzate dal ministro dell'istruzione Stefania Giannini le materie scelte per la seconda prova scritta di maturità 2016. Gli studenti del liceo classico dovranno sostenere una prova di greco, mentre anche quest'anno quelli dello scientifico affronteranno un esame di matematica anche nell'opzione scienze applicate. Ci sarà lingua straniera, liceo linguistico, scienze umane per l'omonimo liceo, diritto ed economia politica al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, discipline artistiche progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi all'artistico. Tra le altre materie annunciate dalla ministra troviamo discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici per il turismo, tecniche di produzione e di organizzazione quella scelta per gli istituti professionali di indirizzo produzione industriali e artigianali, tecniche della danza al liceo coreutico, teoria, analisi e composizione al liceo musicale. L'esame di maturità 2016 avrà inizio mercoledì 22 giugno con la prova di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Il giorno successivo, giovedì 23 giugno, sarà la volta della seconda prova scritta nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Complessivamente sono 164 gli indirizzi. Il ministro Stefania Giannini ha detto che nelle ultime stagioni c'è stato un incremento della qualità media delle prove scritte e dell'esame di maturità e ha augurato un in bocca al lupo ai maturandi 2016. Era il nostro ultimo servizio in escaletta, grazie per la cortese attenzione, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.